Con il Giovedì Santo iniziano i riti importanti in preparazione alla Pasqua, il Triduo Pasquale. Questa mattina vogliamo parlare appunto della prima giornata, il Giovedì Santo. Lo vogliamo fare in collegamento con Fra Maurizio Placentino, consigliere generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Bentrovato Fra Maurizio, pace e bene, grazie per essere con noi. Pace e bene a tutti voi e bentrovati. Dunque, i riti liturgici del Giovedì Santo, la giornata che stiamo vivendo, celebrano appunto l'istituzione dell'Eucaristia e del Sacerdozio. Allora Fra Maurizio, vorremmo partire chiedendoci proprio perché questi due momenti così importanti avvengono proprio in questa giornata particolare, cioè il Giovedì Santo. Ecco sì, il Giovedì Santo segna l'inizio di quello che noi chiamiamo il Triduo Santo, in effetti è un po' anche la fine della Quaresima che abbiamo cominciato il mercoledì delle Ceneri. Il Giovedì Santo ci introduce a questo momento in cui celebriamo il cuore del mistero cristiano, cioè la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Ecco, potremmo dire che il Giovedì Santo è un po' come il preludio delle composizioni musicali, il momento in cui sentiamo i temi che poi verranno sviluppati durante l'opera. Ecco, possiamo dire che il Giovedì anticipa un po' tutti i temi, tutti i colori che vivremo nel Triduo Santo. E in modo particolare, ecco, il Giovedì Santo inizia il Triduo perché è il momento in cui si avvia anche la passione di Gesù. Già durante l'ultima cena, appunto giovedì, ricordiamo l'ultima cena, già durante quell'evento, con l'annuncio del tradimento, si avvia quel percorso che porterà alla crocifissione di Gesù. Quella cena, quell'ultima cena, quella che ricordiamo nella celebrazione di questa sera, anticipa tutto ciò che avverrà nella passione. Possiamo direne un po' la chiave di lettura. E cosa avviene nella passione? Cosa avviene nella crocifissione di Gesù? Gesù si dona da se stesso, dal suo corpo, dalla sua carne. Ecco, nella cena del Giovedì Santo, questo è anticipato in una forma particolare, nell'Eucarestia. In quell'ultima cena Gesù dà se stesso, prendete questo il mio corpo, prendete questo il mio sangue. Però, ecco, c'è una differenza fondamentale. Quel donarsi di Gesù del Giovedì Santo è qualcosa che nella memoria della Chiesa, nella liturgia della Chiesa, si ripeterà continuamente, fino ai giorni nostri. Mentre quello che avviene sul Calvario avviene una volta per tutte. Ecco, allora, il Giovedì Santo è l'istituzione di questo grande sacramento, di questo sacramento centrale nella vita della Chiesa, che è l'Eucarestia, che è strettamente legato alla crocifissione. Gesù si dona sulla croce una volta per tutte. Nell'Eucarestia, ogni volta che, obbedienti al suo comando, noi facciamo memoria di questo suo donarsi. Ecco, allora, il Giovedì è il momento del dono. Un dono, possiamo dire, che dura per sempre, che dura fino ai nostri giorni. Un altro momento e gesto importante, Fra Maurizio, che si vive solo ed esclusivamente nella celebrazione in cena domini, lo abbiamo visto anche nelle immagini relative appunto a quella celebrazione dell'anno scorso, è la cosiddetta lavanda dei piedi. Allora, perché in questo gesto di Gesù agli Apostoli si riconosce proprio il sacerdozio? Ecco, sì, effettivamente durante quel banchetto Gesù fa un gesto straordinario, che è quello della lavanda dei piedi. Però dobbiamo notare che mentre Matteo, Marco, Luca nei loro Vangeli ci raccontano, come anche Paolo nelle sue lettere ci racconta come è avvenuta quella cena, ci riferiscono le parole di Gesù sul pane e sul vino, il Vangelo di Giovanni non fa questo, non ci racconta, ecco, il momento in cui Gesù dà il pane e dà il vino, ma ci racconta un altro fatto avvenuto, quella sera appunto la lavanda dei piedi. Allora, ecco, anche in questo caso possiamo dire questi due punti di vista su quell'evento si illuminano a vicenda. La lavanda dei piedi era un gesto che veniva compiuto per necessità, possiamo dire, ai tempi di Gesù. Si viaggiava a piedi sulle strade polverose, quando si raggiungeva una casa, la propria casa o la casa di uno che accoglieva, e quel primo gesto era lavare i piedi. Quindi era un gesto, possiamo dire, di accoglienza innanzitutto. Era il gesto che la moglie faceva al marito che tornava dai campi, dal lavoro, il figlio al padre, con il padrone di casa all'ospite. Ecco, era innanzitutto un gesto di accoglienza. Era poi un gesto di umiltà, ecco, soprattutto nel ruolo di Gesù, perché in genere, ecco, era un gesto che facevano gli schiavi, possibilmente. Ma ecco, allora, abbiamo già due caratteristiche, l'umiltà e l'accoglienza. Poi credo che va sottolineato un altro aspetto che possiamo vedere nel racconto della lavanda dei piedi con l'intervento di Pietro, no? C'è anche un senso di purificazione, possiamo dire, questo gesto. Allora, vedete, tante sfumature, l'umiltà, l'accoglienza, la purificazione, sono tutti tratti che in un certo senso ritroviamo nell'Eucarestia. Allora, Giovanni ci aiuta a leggere l'Eucarestia, non ci racconta quello che già gli altri Vangeli ci hanno raccontato, ma ci dà una chiave di lettura. L'umiltà di Gesù, che si dona, il suo accoglierci, possiamo dire, nella sua casa, alla sua tavola. Possiamo dire, Gesù ci accoglie con l'Eucarestia nella famiglia della Trinità. E anche questo mistero della purificazione, che comunque attraverso l'Eucarestia avviene. Ecco, quel segno che noi ripeteremo questa sera nella celebrazione è qua in sé un significato molto profondo, che spiega, in un certo senso declina, il senso dell'Eucarestia. E a proposito di declinazioni, Fra Maurizio, a me piace tantissimo quella formula ormai conosciutissima del grembiule del servizio, coniata da Don Tonino Bello, insomma, che rimanda direttamente a quanto vivremo quest'oggi e che ha a che fare direttamente poi con il servizio non solo dei presbiteri, oggi si dice essere la festa appunto dei presbiteri, ma anche dei laici. Allora vorrei chiederti, questo servizio come si deve concretizzare da ambo le parti, chi vive il sacerdozio comune e chi vive quello ministeriale? Ecco, rimarrei nell'esempio, nell'immagine della casa, dell'accoglienza. Abbiamo detto la lavanda dei piedi un po' era la porta d'ingresso per chi arrivava a casa, la cena, ecco, è un momento intimo, familiare. Io direi che oggi il servizio che i presbiteri sono chiamati a fare, ma ogni uomo, ogni cristiano, è quello di creare casa, di fare casa, diciamo così. Cioè c'è bisogno di creare luoghi di accoglienza, luoghi di umanità, luoghi dove si può essere accolti, si può essere ascoltati, dove ci si sente, si possono vivere relazioni buone. Ecco, credo che questo è il servizio, ecco, lo potremmo riassumere con questa immagine. Non è difficile capire come questo si può realizzare, no? Parlare di casa significa parlare di cibo, parlare di creato, quindi parlare di accoglienza, di protezione, di aiuto, di ascolto, di relazione. Ecco, allora il servizio che siamo chiamati a fare deve coprire questi ambiti, l'ambito dell'umano. C'è bisogno di questo. E in fondo Gesù questo ci insegna, no? Lui, Dio sposa la nostra umanità proprio perché attraverso l'umanità possiamo ritrovare e incontrare Dio. E per chiudere, Fra Maurizio, non possiamo non fare menzione al nostro santo, San Pio da Pietrelcina, Padre Pio, che è stato un uomo fatto Eucaristia, appunto. Quale lezione, allora, viene dal suo sacerdozio? Ecco, rimarrei ancora nell'immagine della casa. Nella casa è fondamentale il padre. Ecco, Padre Pio ha rivestito questo ruolo nel nostro tempo, no? Quello del padre, di chi ha richiamato i figli sulla buona strada, diciamo così, di chi ha curato, ha ascoltato, ha anche rimproverato, ma di chi si è preso cura. E proprio questo è il nome che ha voluto dare alla sua opera principale, Casa Sollievo della Sofferenza. Ecco, direi, Padre Pio, appunto, è stato un padre. E questo è un servizio, il servizio a cui siamo chiamati oggi. Ed è il servizio che Padre Pio ha testimoniato fino in fondo. E allora, Fra Maurizio, grazie di cuore per essere stato con noi. Buon Triduo Santo e buona Pasqua. Noi ti ritroveremo qui a San Giovanni Rotondo domani, venerdì santo, per la celebrazione della Passione del Signore. E allora, nella speranza di poterci incontrare, farci gli auguri di persona, lo facciamo a distanza, però comunque credo valgano lo stesso. Grazie, grazie di cuore. Grazie a voi e a presto. Bene, ora restituiamo la linea alla regia e poi ancora insieme.